Ho versato il nostro Berluchi 61 Satin, ovviamente perché 61 l'avrete capito è l'anno di nascita 1961 del primo Franciacorta e Satin è una particolare tipologia che si può produrre solamente in Franciacorta, è un marchio registrato dal consorzio Franciacorta di cui facciamo parte insieme ad altri nostri colleghi, circa 120 aziende e Satin è una particolare tipologia di Franciacorta perché è composto solamente da uve a vacca bianca, quindi o chardonnay o pino bianco e soprattutto ha una pressione in bottiglia leggermente inferiore alle classiche sernosfere, quindi qui si tratta di circa 5 atmosfere. Oltre a questi due fattori, quindi varietà vacca bianca e pressione all'interno della bottiglia, abbiamo anche una maturazione un po' più lunga, circa 24 mesi minimo di affinamento sui lieviti. Il nostro 61 Satin è al 100% chardonnay, non usiamo altre uve a vacca bianca, proviene dai nostri vigneti che si trovano intorno al centro storico di Borgonato, in particolare un vigneto che si chiama Arzelle, un vigneto molto importante per noi perché è carico di sole, Arzelle è un termine dialettale che vuol dire arso dal sole, e ci permette di ottenere delle uve mature, con un'acidità lievemente inferiore, ma ci permette di avere un prodotto che ha una cremosità e una leggerezza che riteniamo siano un fattore importante per un Satin. Ci.